Salve bibite frizzanti e benvenuto pure e ben ritrovate sul mio canale, io sono Malta e in questi lì ti parliamo di cose nerd, anime, manga e videogiochi. Quest'oggi siamo qui perché voglio mostrarvi tutti quelli che sono stati gli acquisti manga fatti da sottoscritto durante il mese di aprile 2024. Ma vado alle ciance, non voglio perdermi in chiacchiere quest'oggi perché voglio farvi vedere ciò che ho comprato, dunque potete correre in cucina a prendere dei pokor e una bibita fresca per gustare meglio questo ultimo video del vostro Malta, perché questo è tutto quello che ho preso in questo quarto mese del 2024, ma prima di farciò come sempre, sigla! Prima di cominciare però e come da prassi per questa tipologia di video vi voglio ricordare che in descrizione è presente il link per Inside Collectors, fumetteria online con la quale collaboro che si occupa della vendita di manga, fumetti americani, variant, figures, prodotti giapponesi e molto molto altro. Vi ricordo che inserendo in fase di acquisto il codice Malta avrete da diritto il 5% di sconto su qualsiasi cosa voi vogliate comprare. Inoltre la spedizione è gratuita sopra i 39€. Ultimissima cosa, se qualcosa non dovesse essere disponibile scrivete ai ragazzi che la gestiscono su Instagram, per mail oppure su Whatsapp e faranno di tutto per farvi avere il vostro prodotto nel minor tempo possibile. Che cosa state aspettando? Link in descrizione. Bando alle ciance però, Planet Manga! Prosegue anche questo mese spedito il mio recupero di traccio di sangue di Shuzo o Shimi. In particolar modo quest'oggi sono qui con i volumi 2, 7, 10, 11, 12 e 13, prezzo di 7€. Copertina del volume numero 2, 7, 10, 11, 12 e infine 13. Nonostante mi siano arrivati praticamente ieri ho già avuto modo di rileggere il volume numero 1 che ormai lessi circa 6 o 7 mesi fa e di potermi approcciare al tankobo numero 2 che stringo tra le mani. E posso dirvi che le mie aspettative sono state rispettate. I primi due volumi di questa serie sono un qualcosa di strepitoso, malato e al contempo bellissimo, con Shuzo Shimi che ha raggiunto un livello di disegno molto alto e un livello di espressività che mi ha lasciato sbalordito più e più volte. Nonostante questa serie sia stata scritta e disegnata di pari passo con Bentornato Alice, trovo che i disegni presenti all'interno delle sue pagine siano ad un livello completamente superiore, con parecchie sfumature in più, ma soprattutto un livello di dettaglio ancora maggiore. La tematica della sessualità è sempre presente, in maniera molto più distorta rispetto al solito, con un rapporto madre-figlio abbastanza malato e non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il buono Oshimi con questa serie che si preannuncia essere spettacolare. Questo è per farvi capire il livello grafico. Passando un po' alla Cool Tura, volume numero 14 per Demon Slave, prezzo di 5,20€. Molto molto bella la donnina in primo piano. Trattasi di una delle mie opere con maggior tasso di fanservice preferite. Ho già avuto modo di dire più e più volte come la serie abbia un cambio di passo significativo a partire dal volume numero 5, diventando molto più bella. Infatti l'autore si è degnato di mettere una macro trama principale, andando sì a mantenere tette e culi ad un livello accettabile e non solo, ma anche proponendo delle svolte narrative non indifferenti, con qualche sorpresina che talvolta mi ha lasciato a bocca aperta. I personaggi poi si evolvono, trasformandosi da meri stereotipi a un qualcosa di più accettabile, e sono tanto curioso di vedere cosa la serie ci riserverà da qui in futuro. Penso non manchi molto alla conclusione, io di questa cosa sono molto triste. Sempre per Planet Manga e sempre al prezzo di 5,20€ ho recuperato i volumi numero 13 e 14 di Noragami di Adachi Toka, copertina molto rosa del volume numero 13 e cover rossa del 14. Finalmente entro in territorio inesplorato per quanto riguarda questa serie, dato che le vicissitudini narrate anche nell'anime sono terminate nel volume numero 12. Ho già avuto modo di tessere le lodi di quest'opera più e più volte grazie al suo worldbuilding ben strutturato fin dal primo numero e i suoi personaggi accattivanti. La storia, nonostante si dirami in tante microtrame, butta qua e là elementi atti a far progredire la macro trama, gettando misteri su quello che è il protagonista Yato, ma anche su tutti i comprimari che vanno a costituire tasselli della narrazione di Noragami. Uno shonen molto leggero che leggo sempre tanto volentieri. Straconsigliato, mi raccomando recuperatelo se ne avete la possibilità. E ora Star Comics. Complice anche il fatto della dipartita del maestro Toriyama avvenuta ad inizio aprile, ho deciso di darmi una mossa con il recupero di tutte le sue opere. Stringo tra le mani Neko Majin, uscito in Italia nel 2007, infatti il prezzo è di 4€. Ecco a voi la sua bellissima copertina. Volume unico dell'autore che vede come protagonista questo coniglio blu che potete ammirare sulla copertina. Non posso dirvi nient'altro perché, onestamente, non ne so troppo e devo ancora leggerlo. Ma sempre dello stesso Toriyama, e questa è un'opera portata da Star Comics un pochino più recentemente, abbiamo Sandland. Prezzo di 5,90€. Ecco a voi la copertina dell'edizione da Poracci. La casa di Tre ci ha voluto sfruttare l'onda derivante dal film uscito nel Paese del Sollevante qualche mese fa e portato in Italia su Disney Plus in un anime da sei episodi. Inoltre deve uscire anche un videogioco. La storia vede come protagonista il principe diavolo Belzebù impegnato a cercare una sorgente leggendaria. Anche qui so veramente poco, dato che le uniche informazioni che ho a riguardo sono la trama presente dietro il volume, ma soprattutto il trailer del gioco che ho avuto modo di vedere. L'anime non me lo sono ancora guardato appunto perché stavo aspettando di leggere la sua controparte cartacea, vi farò sapere. Proseguiamo con Gachi Akuta volume numero 5, prezzo di 5,20€. Tanto carina questa copertina. A mio modesto parere si tratta di uno dei battle manga più riusciti usciti ultimamente, scusatemi il gioco di parole. Mi ha convinto quasi per tutto a partire dal suo stile grafico abbastanza particolare, ma anche per la sua storia. In qualche modo diversa rispetto a ciò a cui siamo abituati. I combattimenti poi gasano e lo stile di lotta dei vari personaggi è sempre ben differenziato l'uno dall'altro, invogliandomi a capire maggiormente quelli che sono i loro poteri. Il prezzo poi è bassino e di conseguenza se cercate un qualcosa di ignorante e atto a farvi passare il tempo in spensieratezza, perché no? Gachi Akuta potrebbe fare il caso vostro. A Sign of Affection numero 9, prezzo 5,90€. Quanto sono carini i protagonisti, mamma mia. Izumi palesemente nasconde qualcosa, questo nessuno riuscirà a farmelo togliere dalla testa, chissà se scopriremo che cosa in questo volume. Per quanto riguarda invece Yuki, penso non ci sia nulla da dire, una waifu di prima categoria che nonostante abbia l'handicap di essere sorda, è indipendente ma soprattutto dolcissima. E fidatevi, la sordità in questo caso è trattata in maniera sublime, mettendosi in risalto tutte quelle che sono le problematiche, ma non rendendo il personaggio principale femminile uninetta, come accade in A Silent Voice. Mermaid Melody volume numero 2, prezzo 9€, copertina molto azzurra. Io una sola cosa c'ho da dire a riguardo, nel primo numero le protagoniste pensavano più al cazzo che a salvare il mondo, ed è un problema questa cosa, non tanto perché i loro armoni siano fuori controllo, ma perché se non salvate il mondo poi il pipo del vostro moroso non lo potete più avere, no? Sempre per Star Comics e questa volta grazie al consiglio del buon faffo di cui vi lascio il canale in descrizione, ho comprato il primo numero di X6 CrocisX, è uno scioglilingua praticamente, prezzo di 6,50€. Ecco a voi la sua bellissima cover. È malatissimo e lo si capisce già dopo circa 15-20 pagine, la storia vede come protagonista questo ragazzo che viene bullizzato da 5 suoi compagni di classe, che sono abbastanza stronzi, ma il bullismo non è che si ferma ad un sei un perlotto, allo sgambetto e così via, no a cose molto cruenti che oltrepassano anche i confini della legge diciamo. Passano gli anni, lui non dimentica e decide di vendicarsi, ma lo farà nel peggior modo possibile, torturando e facendo qualsiasi altra bella robina a tutte quelle persone che l'hanno fatto soffrire in passato. Questo primo numero mi è piaciuto tantissimo e andrò sicuramente dopo aver registrato questo video a comprarmi anche il secondo. Sì, viva le cose macabre, violente, ma soprattutto malate. E ora, J-pop. Prima di proseguire però, vi esorto ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuna delle prossime pubblicazioni. A voi non costa niente, ma invece a me questo gesto aiuterà tantissimo. Grazie, grazie, grazie. E vi ricordo anche di fare un rapido check di social che trovate in descrizione. Vi do qualche secondo in modo tale che possiate farlo senza perdervi nessun acquisto. Pesca un limone per l'estate. Fatto, grazie mille. Akane Banashi numero 5, prezzo di 6,90€. Molto molto bella la copertina. Tralasciando il fatto che la linguetta con scritto consigliato da Echiro Oda, autore di One Piece, con tanto di banner scritto dall'autore che recita le seguenti parole Mi piace un casino, forza cane, bye Echiro Oda, suoni un po' di trash. Però mi sembra un tentativo atto a far vendere maggiormente la serie, che secondo me non se la sta cavando per niente male. Mi piace, non so che altro dire, ho avuto modo di parlarvene nella top lettura uscita due settimane fa sul canale, quindi vi invito ad andare a recuperare quel contenuto se ancora non l'avete fatto. Sicuramente ne saprete maggiormente rispetto a che è un banale videoacquisti. Ultimo, ma non per importanza, Irayasumi volume numero 4, prezzo di 7,50€. Ecco a voi la sua copertina bella bella. Il fatto che parli di vita quotidiana in maniera molto rilassata è una delle cose più belle secondo me di Irayasumi di Keigo Shinzo, trasmettendo quel senso di relax e pace dei sensi che una lettura di questo stampo dovrebbe dare. I personaggi non sono tanti ma sono ben caratterizzati e ognuno trova lo spazio giusto per far progredire il proprio personaggio, rimanendo però sempre coerenti. I disegni sono molto carini, ecco qui un esempio, e la storia per quanto tratti appunto di vita quotidiana mi piace assai. Stra 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 consigliato. E questi erano tutti gli acquisti manga fatti dal sottoscritto durante il quarto mese del 2024, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi voi che cosa vi siete comprati. Detto ciò il video si può concludere qui e io spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto venitemi a trovare anche sugli altri social, Instagram, gruppo Telegram e canale delle live, mi raccomando trovate tutto qua sotto. E noi ci possiamo salutare e vedere in un prossimo video. Ciao!